buongiorno a tutti dal format martinatosi presenta e siamo qua oggi al trend studio con un momento speciale perché presentiamo la campionessa del team artesse in carica anna maria bracci la maestra maria bracci con le sue opere inedite due opere inedite ovvero vortice e civiltà oggi e ovviamente anna maria bracci è la nostra campionessa quindi non ho nient'altro da aggiungere come potete vedere i quadri sono veramente strabilianti se volete informazioni come sempre sulle opere potete contattare la nostra mail info punto artes group punto piocciolagmail.com